Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e oggi ci troviamo a San Vittorio Olona in compagnia della concessionaria Nissan Auto Formula accanto a me Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Rosi, buonasera a tutti. Arrivare da noi è molto semplice, basta percorrere la Milano Laghi e uscire a Legnano, dopodiché alla rotonda a destra proseguire e all'altra rotonda a sinistra ci troverete sulla strada statale del Sempione al numero 208. Assolutamente semplicissimo raggiungere qui, non potete naturalmente sbagliare, avrete la possibilità una volta arrivati qui di avere delle grandi opportunità per quanto riguarda l'acquisto di Nissan con grandi offerte che ora vedremo insieme ad Alessandro e anche per quanto riguarda vetture d'occasione selezionate e garantite. Andiamo a vedere le offerte Ale? Certo, andiamo subito Rosi. Passo ora a illustrarvi le nostre vetture, voglio partire da Micra, da nostra utilitaria, da consumi fantastici e da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa fantastica utilitaria offre veramente una grandissima dotazione di serie, dal bluetooth al climatizzatore, alla chiusura col telecomando, all'antifurto, un grandissimo spazio e un ottimo comfort. Può essere vostra al prezzo di 8.450 euro. In più, Nissan offre veramente delle possibilità di personalizzazione sia a livello di pagamento e sia a livello assicurativo. Passo ora a presentarvi Juke, una macchina molto particolare e simpatica sia per le linee, sia per la dotazione e sia per la possibilità di personalizzarla. Come vedete questa vettura ha delle personalizzazioni, dagli specchietti ai cornici fari. È veramente particolare. Ottime anche le motorizzazioni, da 1.6 benzina a un 1.2 turbo benzina e un fantastico e parsimonioso 1.5 gasolio. Inoltre questa vettura ha una dotazione molto completa con cerchi in lega, fendi nebbia, climatizzatore e tutto quelli che sono i dispositivi di sicurezza. E tutte le nostre vetture sono garantite 3 anni o 100.000 km con la possibilità di estendere la garanzia fino al quinto anno. E volevo ricordarvi anche che questa vettura può essere vostra a 17.150 euro. Passo ora a presentarvi Not, la nostra piccola monovolume, dà gli spazi eccezionali e veramente in piccole dimensioni. Questa vettura ha la caratteristica di essere compatta, una dotazione veramente completa e in più si riesce a creare uno spazio all'interno veramente ideale per tutta la famiglia, grazie alla possibilità di spostare i sedili posteriori. La dotazione di questa vettura è veramente completa e soprattutto basata anche sulla sicurezza. Quindi abbiamo climatizzatore, servosterzo, ABS con le BD, le SP, insomma tutto quello che devono avere le auto ai giorni nostri. Il prezzo è a partire da 13.800 euro e in più su questa vettura abbiamo delle ottime formule di finanziamento con comprese estensione di garanzie e assicurazione incendio e furto. Ecco a voi la nostra berlina, una dotazione veramente completa e un comfort eccezionale che garantisce ottime prestazioni, consumi e comfort in tutti i vostri viaggi. Oltretutto questa vettura ha un bagagliaio veramente spazioso. La gamma delle motorizzazioni è veramente completa perché abbiamo sia un 1.6 benzina, sia un 1.2 benzina e anche un 1.5 gasolio e come dicevo prima da consumi veramente eccezionali. La matura può essere vostra a partire da 18.000 euro. Passo ora a presentarvi la regina dei crossover, Cascai, è la nostra punta di diamante, il nostro fiore all'occhiello, è una vettura fantastica, dalle ottime dotazioni, dalle ottime finiture, è veramente una vettura leader e leader del suo mercato. Questa fantastica auto può essere vostra da partire da 20.800 euro ed in più disponiamo delle auto aziendali e chilometri zero a partire da 19.900 euro. Un'altra cosa importante di Nissan è il patto che fa con il cliente. Dovete sapere che Nissan vi garantisce un'assistenza completa a vita per la vostra vettura. Infatti Nissan fa un vero e proprio patto con il cliente e se fate le manutenzioni vi garantisce la mobilità e l'assistenza a vita. Anche la gamma dei motori è veramente completa. Abbiamo un 1.2 benzina, un 1.6 benzina, un 1.5 gasolio, un 1.6 gasolio disponibile sia con cambio automatico e sia con trazione 4x4 che garantisce completa aderenza e sicurezza su tutti i tipi di terreno. La dotazione di questa vettura è veramente completa sia a partire dal modello base con climatizzatore, servo sterzo, tutti i dispositivi di sicurezza e in più nei modelli top di gamma abbiamo anche questo sistema chiamato Aranview Monitor che garantisce una completa efficienza e sicurezza anche nel parcheggio. Passo ora a presentarvi la nostra ammiraglia, il nostro crossover ammiraglia fantastico con degli spazi eccezionali e anche la possibilità di avere i sette posti quindi adatto anche a famiglie numerose. Questa è la nostra X-Trail e garantisce veramente una dotazione eccezionale dai cerchi lega ai fendi nebbia al climatizzatore automatico Bizzona. Diciamo che su questa vettura abbiamo tutti i comfort sia per il viaggio e sia per la città. Questa vettura può essere vostra da 25.650 euro e possiamo anche qui utilizzare delle formule di finanziamento che garantiscono sia degli ottimi tassi e sia una possibilità di estendere garanzia ed incendio e furto. Visto la grande attenzione di Nissan per l'ecologia passo ora a presentarvi la nostra vettura completamente elettrica, un connubio di tecnologia e di design. La vettura è eccezionale, garantisce di poterla caricare tranquillamente e comodamente a casa vostra e grazie alle nuove ricariche veloci che si trovano ormai nei grandi centri e nei grandi punti autostradali garantisce una percorrenza quasi limitata. La sua autonomia è di 250 chilometri. Sì avete capito bene 250 chilometri che vi permettono di viaggiare in maniera economica ed ecologica per molti chilometri. Questa vettura inoltre è un equipaggiamento completo dal navegatore satellitare al climatizzatore automatico ai cerchi lega insomma anche di aspetto è molto bella e garantisce anche sia il comfort per i passeggeri e sia un ottimo bagagliaio per i viaggi. La vettura parte da 23.900 euro e su questa vettura ci sono fantastiche offerte sia di finanziamento e sia assicurative grazie all'efficienza e alla qualità Nissan. Un'altra cosa importante è dire che queste batterie sono garantite 8 anni quindi oltre a quello c'è veramente qualità e affidabilità e grazie agli incentivi. Questa vettura è esente dal bollo per 5 anni in molti comuni d'Italia, non paga il parcheggio anche lì in quasi tutti i comuni italiani e consente di entrare anche nelle zone vietate al traffico di tutte le città più importanti. Inoltre vi invito ancora a venire a provare la nostra vettura e tutte le vetture della nostra gamma. Siamo qua che vi aspettiamo perché è veramente, è importantissimo provare il prodotto. Vi presento ora a Navarra di questa nuova versione fantastica, Navarra che è già un must di Nissan, oggi ancora più forte e sempre più innovativo. Questo modello può essere vostro da soli 24.700 euro. In più abbiamo delle rivoluzioni molto importanti a livello tecnologico e tecnico, una tonnellata di portata utile e dei comodi posti. Inoltre abbiamo la possibilità, grazie a quest'anno fiscale, della detrazione del 140%, avendo così una vettura che può essere sia utile per il lavoro e oltretutto con dei comfort eccezionali come il navigatore satellitare, la Debreio e il sistema Run View Monitor di Nissan. Disponibile sia in versione cambio automatico che manuale, sia 4x4 che due ruote motrici e anche la possibilità di avere anche la cabina singola. In questo periodo poi abbiamo un'offerta per il lancio veramente eccezionale, 48 mesi a tasso zero, veramente un'offerta da non perdere. Inoltre su tutti i nostri commerciali abbiamo una garanzia di 5 anni, ripeto 5 anni di garanzia su questi mezzi commerciali. Questo è il nostro commerciale di punta, uno dei più venduti, molti di voi lo conoscono già, è l'NV200, adesso rinnovato, può essere vostro a soli 13.750 euro e ricordiamo sempre questa legge del 140% di detradibilità che veramente consente un grandissimo risparmio per la vostra azienda. Addirittura al suo interno ci possono stare due casse di pallet, visto la sua grande capacità di carico e oltretutto su questa vettura nonostante sia un mezzo di lavoro abbiamo anche un grandissimo comfort, grazie al climatizzatore, la possibilità di avere anche il navigatore satellitare e alle sue sospensioni ottime, anche a pieno carico. Abbiamo oltretutto la possibilità di allestire il modello secondo le vostre esigenze, sia celle frigorifere, sia officine meccaniche, possiamo veramente allestirlo a vostro piacimento. Adesso passiamo ad Evalia, questo nostro monovolume polivalente, si può avere sia in versione autocarro e sia in versione vettura. L'auto è molto completa, climatizzatore, servo stesso, diciamo che ha tutte le dotazioni sia di sicurezza che di comfort e in più ha questa possibilità fantastica di avere i sette posti che consente anche a famiglie numerose di poter sfruttare la vettura per i viaggi o i trasporti ordinari di tutti i giorni. Ottima la possibilità di accedere dalle porte scorrevoli, un ottimo piano di carico e la possibilità di modulare i sedili eliminandoli a seconda delle proprie esigenze. Un'altra cosa importante è il comfort che ha questa vettura e i minimi ingombri, quindi si può utilizzare benissimo sia in città, per il parcheggio, e si utilizzara tranquillamente anche per viaggi. Quest'auto può essere vostra da 19.300 euro. Abbiamo inoltre varie motorizzazioni dal 1.500 gasolio al 1.600 benzina per soddisfare tutte le vostre esigenze. Passo ora a presentarvi le nostre magnifiche occasioni, sia auto aziendali che usate. LIF aziendale da 21.900 euro. Pulsar chilometro zero e aziendali a partire da 13.900 euro, sia in versione benzina che gasolio. NOT chilometri zero e aziendali a partire da 11.800 euro. Micra chilometro zero e aziendali a partire da 8.450 euro, vari colori e dotazioni. Zafira 1.600 benzina e metano anno 2012 a soli 10.000 euro, vettura veramente risparmiose con grandi spazi. Fiat 500L benzina e metano anno 2013 a 13.000 euro. Disponiamo oltretutto di cascaie aziendali a chilometri zero, molto interessanti a partire da 19.900 euro. X-Trail aziendali sia 2015 che 2016 a partire da 28.000 euro in versione 4 ruote motrici e un fantastico Navarra aziendale che potete venire a vedere presso la nostra sede. Bene avete visto quante offerte per quanto riguarda il nuovo e anche tante proposte per quanto riguarda l'usato. Per tutto il resto naturalmente vi invito a venire qui e anche a visitare il sito autodelgiorno.tv per andare a cercare la pagina del magazine dedicata all'autoformula e andare a rivedere se lo volete interamente la trasmissione. Grazie Alessandro. Grazie Rosi e buonasera a tutti. Grazie a tutti voi.